Allora, direi che possiamo partire perché gli attori principali ci sono, ci sono anche altre persone che sono qui presenti per seguire questa sessione. La sessione C1 ha tre mesi e quattro contributi, mi permetto solo di dire che sono contributi che riguardano principalmente l'administratore di livello in Italia, sono contributi ed esperienze diverse, che ho avuto il piacere di leggere per preparatemi per oggi, anzi ringrazio che sono stati i miei colleghi che mi hanno mandato anche, hanno messo tutte le sessioni nelle condizioni di venire preparati al meglio. Ci sono esperienze interessanti, prospettive diverse, quindi io direi che facciamo sentire, cerchiamo di tenere più tempi, io mi metterò lì in prima fila quando mancano due minuti, alla scuola con due minuti, in maniera tale da prendere anche le domande. Ho visto in altre sessioni, l'olio d'ammeriggio, che le domande sono tante, gli interventi alla società concreti ed è anche il bello, diciamo, di avere un convegno di questo tipo in cui ci si trova in presenza ed è anche più fatto, diciamo, discutere su aspetti che possono essere di interesse. Partirei col primo contributo che viene fissuato da, quindi ho 22 pesanti, io ne ho letto insomma uno, ti do sicuro perché avevo letto qua. Il titolo è, come le università stanno preparando per le classi domani, Grazie, e partiamo con l'invito. Across the globe, communication has been redefined. Nowhere is this more apparent than in our schools and campuses. And for every channel of communication, there's Zoom. In Zoom Rooms, Zoom's advanced polling gauges student sentiment and retention. Zoom whiteboards make it possible to collaborate near and far. And Zoom has the tools you need to navigate today's education landscape. Our digital signage and scheduling features in Zoom Rooms makes reserving a space and presenting consistent messaging across your campus accessible and simple. Zoom's hot desking tool allows your team to book spaces on the days they plan on being in office, even from their mobile device. Once in the office, users can access Zoom phone, chat, meeting, and more to ensure they never miss a beat. It's time to rethink how Zoom innovation can enhance practically any experience. Tools that allow you to monitor facilities and safety with immediacy and ease. Zoom-equipped technology can immediately increase security and communication across any campus. Okay, we're ready to test it. Campus security, help is on the way. Students, parents, and alumni alike can experience school events, whether in-person or remote. So they will never miss a big game or event again, and enjoy an enhanced fan experience from wherever you attend. The world has changed forever. So let's go out there and reimagine the possibilities the future can bring. Thank you. Buon pomeriggio a tutti, io sono Matteo Auretto e sono accompagnato dal mio legato successo di Stanley. Io mi occupo del school education in Italia, quindi sono tutte le università, le scuole che durante la pandemia, o quasi prima, ho utilizzato un strumento di unified communication. È stato utilizzato principalmente per una singola componente, per esempio, che è il mondo che ha detto per registrare, ma la nostra visione nel mondo education è quella di fornire quello che è un sistema automatico per la comunicazione, quindi un'unica di atto di atto che vada ad approcciare tutti gli aspetti che avete visto nel video, sia dal punto di vista delle lecce delle audio, ma anche della telefonia, della chat, del digital signage, del world space elettorale, che significa parlare a rinontare un pacco, un alga, quindi l'obiettivo nostro è continuare a ripetere che, insomma, non è solamente meek. Infatti, ancora qui, questa è la nostra ruota, di giornata, dei nostri prodotti, come vedete una parte, insieme a Zoom One, che prevede la parte di meeting, webinar, la parte di economia, economia di cloud, ovviamente. e quindi la parte che comprende gli spatti, la parte di contact center, che si collega poi alla parte di telefonia, quindi la contact center che permette di fare il punto unico di collegamento, quelle che sono le comunicazioni interne e interne dell'università. e poi, per esempio, è di marketplace, dove possiamo utilizzare app interna parte o le integrazioni, come Google, in questo caso. Quindi, voi che avete, siete dell'università, volete un po', e abbiamo collegato Zoom con Google, con Google, con il mondo integrato tra questi soggetti. Grazie. Quindi, è un'unica applicazione che interna del campus di università in tutto il mondo, e in Italia. Ci sono tante situazioni di Zoom con diversità, però. Hanno magari meeting, webinar, webinar, telecom, telefono, e tutti i prodotti che abbiamo e continuiamo. L'applicazione proprio si installa sul cloud del computer, la stessa applicazione sul cloud dello smartphone, e l'altro appunto sui prodotti. Quindi, perché il data Zoom non solo per l'invig, continueremo sempre a ripetere il testo, ma per quello che è la connovazione all'interno, per l'interno del sistema universitario, interno per l'interno, per gli amministrativi, per i docenti, per lecchi, per fare che cosa? Il chat di gruppo, o anche per condividere delle informazioni tramite whiteboard, o utilizzando ad esempio i Google all'interno dei meeting. O con tutte le integrazioni, ripeto, che possono essere sia Mood, anche anche via Zapp, Box, Out, oppure attrezzando i piatti, integrando Zoom, il sistema universitario, ci teniamo molto a qualche aspetto dell'inclusione, che abbiamo lanciato nei servizi da pochi mesi, anche alcuni da poche settimane, insomma, del live transcription, quindi io parlo in interno, quindi ho scritto nella lingua, che io poi ho utilizzato, perché non parlo in inglese, poi ho scritto in inglese, ma scritto nel dottor italiano, e altrimenti ho preso anche l'Ucraina, che ho utilizzato per agevolare i miei colleghi. Ecco di qua. Si parla sempre di high-level education e di didattica, dati meglio di dati. Allora, quello che vogliamo visitare qui sono veramente due site, dove possiamo vedere come nelle università e nelle scuole, si continua ad utilizzare Zoom per rivolgere questi ragazzi che o le persone che non possono partecipare praticamente. Ci sono diversi tipi di setup, ad esempio i conti di schermo, come può essere quello, le barbari, le telecamiche, dove poi io faccio partire Zoom per andare a rivolgere chi è a casa e chi può partecipare. ad esempio dei setup, che abbiamo nell'università, sono anche con più schermi perché Zoom roma riesce a gestire più schermi, per schermi, e ad esempio mettendo lo schermo al fondo della classe io posso prendere la griglia dei partecipati e in quel modo lì io posso vedere a tirare a casa, e fare delle domande. Poi il docente ha un percorso di lavoro, controllo della situazione che ti può in quel modo andare a vedere e fare una parola a chi è dedicato. Eppure nel condivisere i contenuti può essere ad esempio una whiteboard io uso il touch della mia whiteboard e la granto avvengono ovviamente la rama di condivisa e possono anche vedere. Quindi ci sono diversi setup, chiaramente questi coinvolgono molti sistemi non c'è audio e video, però c'è quindi un unico centro che è più tecnologiche, non so, Zoom roma, che è integrato poi in tutto quello che è l'ecosistema Zoom quindi ho l'auto e l'iniziatore un unico pannello dove avrò i meeting, dove avrò la telefonia, dove avrò i network staff, dove avrò la workspace, e quindi adesso con un francesco con una carriera e quelli che sono i prodotti di Zoom sono migliori prodotti ma sono migliori prodotti insieme in ambito aziendale ma anche in università. Certo? Eccolo. 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 Prima di ciò che abbiamo in un ruolo per altri prodotti che vengono offerti ovviamente. Eccolo per i meeting ma molti altri prodotti sono stati infatti nel tempo. Uno di questi, che esiste da più di due anni e mezzo è la proponente phone. Quindi non solo meeting e webinar ma se in università o una qualsiasi azienda o una qualsiasi azienda quanto vale volesse utilizzare i segni telefoni e quindi si può stare come per esempio che possono avere un brand o un altro cloud ma non è scollegato in un altro modo organico a tutti gli altri sapenti ecco che può offrire queste capacità quindi tutti i sapenti personali di telefonia fanno la gestione dell'interno, la code, iWA, quindi i risponditori automatici come i due, eccetera, eccetera, che magari si è da divorzi, possono essere forniti tramite il zoom. Il vantaggio è che ovviamente tutto è integrato all'interno della soluzione, quindi per l'utente si tratta di un reclamo non piaciato nostro, perché è molto semplice per l'utente intuitivo, per l'amministratore non ha più clic su una componente effettiva del menu da dove si ha accesso alla configurazione necessaria per questo servizio. Ovviamente abbiamo delle telefonie basate sul nostro cloud, quindi molto scampagli, assisti di voi, affidabili, con i miei mostri e sui box, e tutti i servizi che già ci sentono a cura di un'immigrazione di un'immigrazione di un'immigrazione. di voi, così, così. Una componente di un'immigrazione di un'immigrazione di un'immigrazione di quest'anno, disponibile appunto negli Stati Uniti, dal primo anno di ottobre, diciamo, di terri da monte, e adesso con un po' di più di più di più di più di più di tutti quei servizi che possono essere portati a quel telefono, che è l'unico per gli studenti per contattare, non so, i servizi di assistenza, probabilmente lì, o un ufficio studente o quant'altro, possono essere portati di nuovo trafitto di queste piattaforme, che è buona, non si può interessare con un'immigrazione di un'immigrazione di un'immigrazione di un'immigrazione di un'immigrazione. Se potrebbe assolutamente aggiungere tutto, e avere un'immigrazione di un'immigrazione di un'immigrazione di un'immigrazione. anche per la telefonia, può riuscire a dare agli studenti un numero interno, direttamente ragionibile dall'esterno, nel quale loro possono chiamare internamente e possono vedere anche lo stato, ad esempio, di attività o inattività di determinati servizi e se si trovano a leggere o se si trovano come se si ha trovato, possono chiamare internamente, può chiamare il computer center e avere tutto il supporto di staff, quindi questo è un servizio che viene nato in più ad esempio, come vedete, è solo una teleprimia tradizionale. Grazie, e ovviamente, come dicevo, il servizio è offerto utilizzando la piattaforma Zoom, quindi semplicemente tutte quelle interazioni e interazioni che magari possono risultare più che non offre quando si tratta verso il telefono, sono invece disponibili. Sono in una telefonata, tramite il video del contenuto o voglio parlare di video, prendo un pulsante, ultimamente per la telefonata, metti il video interno e funzionalizzato in una situazione. Al contrario, se mi ha solo un video in giro, mi spostarmi sul telefono, prendo un pulsante il video di passare interamente al mio telefono del cellulare, mi spostano e magari vedo il video che ci trova collegati per sostenere il video e passare interamente al telefono. Quindi tutti questi workflow che tradizionalmente sono più complessi, perché si vanno integrando la piattaforma di DAX, sono invece molto semplici. In tal momento ci sono domande a fare una mano di un lato per voi. Grazie. 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 Grazie a tutti. di un grande video pubblico in una fase di anni e inviare una simulare, una simulare, una simulare e un altro. La conferenza che è stata qui recentemente, l'alcool ha adesso assoluto una vita propria che può essere utilizzata per il nodo anche per il prodotto. Quindi posso riuscire ad avviare una sessione di alcool anche all'esterno. Posso ammettare, posso accedere a quest'alcool con il stesso evento, posso rinnotare, posso cliccare di rifopo su quest'alcool, posso utilizzare il post-it. Esistono dei template, li possono chiamare, li possono assegurarvi nella... in un caso di un altro, magari posso avvicinare sempre a qualche cosa, ho preparato i template, potremmo avere qualche post da spostare e così via. Quindi posso utilizzare questi template, segnali a tutti, diciamo, al muro, e quindi poi adattare anche un'alcool. La cosa molto interessante, appunto, è che posso recalare queste vallure in un visito, condividere, come magari è stato già con dei documenti, con altri utenti, per decidere a fare un'alcool, magari modificare la whiteboard, oppure solo visualizzare, lasciare tutti i documenti per risposta a criminalità, che può essere fatto in questo caso. E poi, ovviamente, quando si va a diventare un documento, posso chiamare queste vallure a lavorare la whiteboard, quindi, che vi addirittura a tutti i partecipanti, quindi nella cede della cede della stessa password di visa. Quindi le funzionalità di un'alcool sono state espanse da due colleghi, che si passa da quello che è un tool, l'impattamento e gli un'alcool, che sono un tool costituitato, a prescindere dalla cede di un'alcool. E ovviamente, come diceva della slide, sono un'alcool, che ci dava il client, quindi il web, il client, avviso con le opere, l'implici, che posso collegare da serie e questo è stato sui siti, che sui siti, 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 così si affronta, ma va direttamente in proprio centro di questa cosa che vuole. World State Choice Foundation, è un altro nome che si truffa, è un'analisi scuola, E' stato ampliato invece tutto per la bambina, ma dunque se c'è stato possibile, diciamo, utilizzare gli spazi che possono essere passati a milioni o anche a qualsiasi stato di spazio che non abbia più lungo a entrare in video, mettendo dei pantelli di fatto poi dalla porta, diciamo, che indicano la disponibilità di questa sala. Da questo pannello si può poi accedere alle manche dell'edificio, prenotare anche altri spazi, rimanere in più di anni di tutti i 50 anni. E' stato in generale la difficoltà di prenotare questi spazi anche nel sito Inter, che sta avendo la possibilità di risalurare un tempo possibile individuale perché i nostri assediati clienti, per tutte le aziende che vogliono andare a utilizzare questo servizio, possono utilizzarlo direttamente. Ovviamente è possibile mostrare tutto su delle scale, perché il flusso è parte dei digital site. La dominenza è una scelta che permette di gestire eventi virtuali, quindi appoggiamosi a quello che è il meeting webinar, andiamo a mettere l'esperienza, e la fornita di tutti questi dispositivi tipo dipendenti, di commissione del meeting webinar, di gestione del sito, di gestione di uno spazio expert, che è di fatto uno spazio virtuale, dove i partecipanti possano interagire tra loro, e magari collegarsi per il mio posto di vento. più o meno, perché, diciamo qui, se mi riesco a girare, diciamo fisicamente, con i vari stack, che posso fare in modo virtuale, accederci per il mio posto. Esatto, e questo può essere fatto in modalità ibrida. per il mio posto. Siamo alla fine, questi erano le features, diciamo, più recenti che abbiamo lasciato. Tra poco, tra l'altro, a novembre, ci sarà la Pontopia, dove ci saranno un sacco di annunci, creativi a programmatico, diciamo, e quindi io rischio di tenere l'occhio anche questi annunci, di registrarlo a Pontopia, e anche se ci sono altri, per il mio posto. Qualsiasi domanda? Sì, forse. Grazie. 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 No, se c'è qualche curiosità o domanda, abbiamo ancora il modo per rispondere. C'è ancora un spazio per rispondere a una domanda? Allora, proseguiamo. Quindi vi ringraziamo di nuovo il mio intervento. Grazie. E di nuovo, di ricordo, come abbiamo detto loro, prima che si continuo, poi, è in mente del dottor, ci siamo passati. Grazie. Sì, sì. Grazie. 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 Questo intervento è una comunicazione, quindi avrà 10 minuti a disposizione, poi, magari qualche minuto per discussione, e sarà Filippo Caburlotto che ci presenterà questa esperienza. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ci ho scritto abbastanza di solito, a passare a questo, come ci abbiamo visto, e questo abbiamo già in fase. Vi racconto. Ci porto naturalmente, non parlo di corsi di lingua che stò oggi, ma parlo di quella che è una delle nostre test practice, cioè dieci anni, che troviamo, quello che è il test più l'inglese, un test, tanto per inquadrare la situazione, un test che coinvolge circa un anno 6.000 studenti, 6.000 euro azioni, ma questi, per darvi un quadro, ci sono altri testi immuni, ci sono altri tipologi di testi, per un totale circa di 10 gradi e 0 gradi ad un anno. Questo è un grado specifico, in quanto, come indicano nella slide, il B2 è un complicatore di uscita dell'organismo e è un requisito per avere un articolo di sintomatismo. Quindi, obbligato a venire e a fare lo stesso. Lo stesso significa che si parli troppo lato. Questo vuol dire che poi, in cui c'è stato il fisico di attraverso, negli anni, ci sono passati vicino a tutti, e non mi domandavano la propresia corpuale da 5 minuti, se avessi iniziato all'epoca, non mi ricordo neanche quando l'ho mangiato a pranzo, figuriamoci quello, però iniziamo già a costruire questo test e a forci e soprattutto a essere qui. due siti. Breve descrizione metodologica per quanto riguarda il test. L'idea in gioco tra loro è se facciano ai grandi questo, ai miei amici, 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 a tutti questi amici, ai miei amici, a tutti i miei amici, ai miei amici di Oslo, Cambridge. E guardate, in tanto, non pochi costi, perché se voi vi usate, nel 540 o circa, per un attimo, per 6.000 persone, ci sono anche grandi costi fondatori. Quindi la traduzione è il protocollo di chaos. Si è deciso il caso, il ruolo dell'apprendimento è il protocollo. A questo punto ci troviamo per costruire il test che decideremo di caricare, praticamente, su quella reale della struttura dei test di protocollo e più diffusi, quindi quattro sezioni disfigurabili per gli use of English, un caso che chiamano come volete. Ci serviva un test che fosse completamente rafforizzato, perché tutto nuovo di chiacchierare con i 3 ieri e oggi, gli ho detto, gli ultimi 3 giorni, prima di venire qui, abbiamo fatto 755 lezzi. Quindi devo avere un test completamente rafforizzato per evitare qualsiasi genere di possibilità di caricatura, con tutti i problemi che mi può creare questo. non ultimo, tempi di realizzazione di Moodle, e dei modi per i quali dobbiamo poter sapere quattro, visto che la professione di corno c'è questo bagno relativo alle statistiche sulla questione, che realizzerebbe un po' con le locazioni, di un test completamente rafforizzato. che opportunizza degli items che si chiamano delle cose. Quindi, la progettazione che ci ha coinvolto sia quello che è il nostro target di riferimento, la popolosità c'è per la ragione. L'indice di legato di legato, le cose che ci solitano di più, nel senso che mi rinnovano a dover espluggere le items che hanno fatto il nostro test. Il 50% del nostro test viene rinnovato all'anno. Ricordate che sono andato di qualcosa come 10.000 items linguistici. quando aveva uscito adesso che parla dell'elettro del test completamente realizzato l'elettro del test. Ora, il problema ultimo, cos'è stato, no? Era quello di calibrare. Cioè, trovare una scala minimisata. Non sapete che se ti vuoi spiegare, non sapete che erogamente un quiz test con un certo tipo di domanda non è equivalente a un tipo di domanda. ad esempio, quando ho visto su focus, non è equivalente a un tipo di domanda. Ma anche a metà di queste stesse manure, erogate in una domanda, costruita in un modo applicativo, non equivale all'elettro della domanda. Quindi, nel modo positivo, sono differenti nella vita che siamo testati. In tal senso, bisognava calibrare, avere una calibrazione testata per tutti gli items, che andavamo a chiedere, non come ultimo, immagino che il primo sulle scuole così, in cui ho detto che il test è completamente da domanda, era come strutturare la banca ITEM di modo che è, per certi versi, estremamente flessibile, per certi versi, abbastanza ignoletta, diciamola così. quindi, a certo, che quello che erano sono le caratteristiche di due, come vedete, per essere estremi, di somministrare la stessa tipologia di test a tutti gli stessi, quindi andare a testare le stesse identiche abilità. noi abbiamo dovuto strutturare, questo credo che ho detto una banca ITEM, dividere per le varie famiglie che hanno presente. All'unità dove ci è, per esempio, indicare la tipologia che intendiamo sministrare per capire e per sapere cosa andiamo veramente con la notazione. perché sì, faccio la stessa domanda, forse i mali con i soldi, forse i grossi facilitati, cioè, una domanda che mi chiedeva, un buon test che vi sforzo, ecco il risultato è completamente diverso, l'abilità che il due soldi è santo è completamente interno. Io ho risultato la risposta che voi fornite di questo interno. Detto tutto ciò, come vedete, questa è chiaramente una parte che è in continuo a divenire. non l'ultimo, perché, scusate che lo dico all'inglese, è una lingua che cresce, cambia e mangia certezza con una velocità tale che avere quello che è un B2 era oggi, come un B2 di 10 anni fa. Pensate che questi alla volta i 10 anni fa hanno tirato fuori del parco per ricercare cioè, è una velocità di modifica, di creazione di tecnologisti che per noi è impensata. Tanto più che noi oggi, portiamo, ciò parlo dall'inglese. E alla prima con un B2 tra l'altro. quindi, ci si è vero, verbi, tutti vanno a fare la procurazione, ma l'altro è che chiudono la quarentena, perché ci sono quasi da detinare, perché la seconda e la terza è la volta che lo creano ad alcuni dati. diciamo, metto ciò, come siamo andati a strutturare questo test? Con solo 4 bits collegati da con i flutti del suo lavoro lavoro, in modo tale che tutti debbano iniziare con la stessa parte del test che è quella di la facilità che è la listening. perché è tantissimo che non la costruzione per la distinzione, cioè perché mi sono stati scattando tutti la listening, che non è la mia in modo più speciale, inoltre la listening è stata quella che si ha creato un piccolo problema perché qua si può diventare un bambino, ovvero, come voi insegnate, tutte le parole sull'applicazione linguistica ormai come standard e workflow permettono al massimo due assunti e questo un attimo non lo può fare. Video Easy con una spazzatina di css che si trova da di avete dai quali ho preso dal piede però non sono sull'applicazione invece non ho iniziato a scusare se non lo voglio. Comunque Video Easy ci permettono solo e anche il livello di controllo BDS che è quello di bloccare la parola di stoppare un pittà in pauta o di riportare l'utente è costretto a stoppare due volte come dico agli studenti quando parlo le rare che non mi guarda male le rare pauti che non mi hanno in mano mi consiglio se volete provare cosa vediamo siccome il B2 non si vede ma ve lo dico sai nello scritto tutte le parti non ho voi equiparate al peso univo tramite il registro del valutatore in modo tale che fai che hanno la stessa cintura uguali chi fa il problema è la mia qualità e lì era il problema se dobbiamo utilizzare 600 in modo tale c'è il tutorial principale ci permette di cambiare di in modo tale che l'utente possa prendere inserzione agli slot orari che noi facciamo in d'oggi me ne hanno desiderato perché altra sono fatta bene infine passato tutto questo passato all'anno risulta allo finale il problema era quello che si diceva il primo detto che si diceva come vanno i miei stati noi avevamo ancora dopo ci parliamo l'assunzione più semplice è la automaticamente mediante l'abbraghin grande fantasia tramite l'abbraghin automaticamente l'abbraghin del comportamento del vostro peggio limite viene generato un overbatch all'interno di questo il quale automaticamente viene scritto all'interno questo ci permette di automatizzare il processo teoricamente è un'idonità che è un'idonità un'idonità anche in questo caso vivo morto nel senso è un'idonità non ha un'idonità anche perché un page descrive l'ottenimento di un'idonità infine infine per chi fosse interessato l'interfaccia grafica l'abbiamo fatta con plexi performance che permette di andare oltre tutto il che oggettivamente è un po' bruttivo sebbene sebbene sia sbagliati e sbagliati e sbagliati anni che lo utilizzo trovo che sia sempre abbastanza liquido come è grande dentro di un'opera e dentro di un'opera e dentro di un'opera e dentro di un'opera e dentro di un'opera si 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 è necessario avere catalogo e il contesto Cioè si parla, noi abbiamo un contratto con Cineca per l'utilizzo di X, dopo invece che andiamo a rinnovare, ci sono partiti da 50, da 5 e 4. Sì, sì, anche questa è una domanda diversa. Ecco, grazie per illustrare il vostro sistema di test, avete messo a disposizione degli studenti qualche strumento per prepararsi l'esame B2 di inglese? Ma per esempio quando abbiamo detto che andiamo ad essersi, c'è periodicamente Iberman nella nostra banca d'arte, quelli occorrono approfondare i test di prova realistico, perché sostanzialmente domani come siamo a parte degli test, che vengono a spungere al trasfero di un rischio, cioè da stessi prova agli stessi di domani. Allora, interessante, anche se quindi proprio su quelle domande, se può essere di aiuto l'Università di Querino a preparare completamente open, un open online course da B1 a B2. Non lo dico perché... Ah, come tutti diciamo, per quei test... Sì, avevano diversi edifici, ma è molto vero che non si conosce. Non so se è aperto tutti o è... Sì, è aperto tutti di particolare da voi. Invece quello dell'un mese prima è che ottenrà più, anche per i cittadini, anche per i cittadini, quindi anche di prima dell'immatricolazione un po' si chiede. No, per tutti i mesi driver sono un messaggio di loro, ma per questo carattere da B2. Da B1 a B2, eh? Grazie. 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 La B2 è scusa, perché come due testi chiediamo questo, diciamo, livello in inglese, ma purtroppo per pochi superati, molti studenti non ci hanno superato, e chiedevano il sostegno. Allora, sulla piattaforma orientamento... orientamento su Google, è una piattaforma nudo, dove ci sono questi corsi dei corsi dell'intervento, che sono aperti a tutte le cittadini, e c'è anche un po' anche di Start e Punito, dove c'è la prima annualità di inglese che viene usata anche... è in realtà un'insegnamento di inglese che viene usata, ma perché le necessità di formati sono un po' veramente... di inglese. Grazie. Grazie. Abbiamo adesso due comunicazioni. Grazie a tutti. La comunicazione è un po' di 15 minuti. Io vedrei le prossime relazioni di pandemia, che è la parola a spi... quando io mi presento. L'altro è un cronico di Maria, che è una persona di Paglia, a Caglia. Grazie. Il titolo della comunicazione è The Fair Platform Model and Adaptations in Technology Based Teaching for ESD. Quindi a voi la Caglia è un'esperienza anche molto bella, che mi è piaciuta molto e lascio poi. Come al solito... io penso che sia importante chiedo scusa ma come stiamo in registrazione perché un piccolo problema in piedi in solito le spalle ok buon pomeriggio io sono Michael Cronin lavoro all'Università della Calabria dove insegno lingua e traduzione inglese sono qui con la mia collega Maria Caria parleremo del nostro umile utilizzo di Moodle Maria a Marisa e da parte tecnica io sarei l'insegnante anche se abbiamo la tendenza nel nostro rapporto abbastanza focoso di invadere i campi altrui quindi le discussioni sono spesso molto eccese e molto produttive prima di iniziare per bene fare una piccola considerazione io parlo dal punto di vista di un insegnante di lingua e molti molti anni fa mi sono messo durante una birra con altri insegnanti d'inglese a Roma e mi è spuntata la domanda ma come ti concepisci come insegnante? qualcuno diceva io mi sento una vittima qualcuno diceva io sono il boss a me è venuto fuori non so come ma la parola in inglese scavager che poi se si va a riguardare che cosa significa in italiano è brutto perché significa rapace e io non mi concepisco come insegnante come un grosso uccello che mangia la carne di animali morti c'è un altro significato della parola scavager che sarebbe chi cerca, chi va alla ricerca chi robista tra le cose a disposizione disponibili per trovare la cosa che è utile e dico questo come premessa per quello che stiamo per vedere adesso è la cosa che sto per dire perché per me il rapporto con la tecnologia adesso e anche nel passato come insegnante di lingua è sempre stato un rapporto in cui decido io che uso, faccio della tecnologia ai fini, non dico necessariamente i miei ma ai fini che io percepisco con i bisogni degli studenti che ho in quel periodo o in quel momento e questo riguarda non solo l'utilizzo di elementi come Moodle o la rete o le varie forme di tecnologia digitale che abbiamo adesso, riguardava anche ai tempi la pressione da parte di una casa elettrice di usare il loro libro per il corso con il CD che poi era il DVD che poi era la serie di videocassette come scavenger io prendo quello che può essere utile e scarto a volte con poco ceremonia ceremonia le cose che non mi servono e quindi quando vado a guardare Moodle sono interessato a vedere se può essere utile la risposta è molto positiva, non so, per scarti a scartare Moodle però c'è sempre questa considerazione, la cosa vi deve essere utile prima di parlare di Moodle, il nostro Moodle è ospitato all'interno di una piattaforma che noi abbiamo creato nel 2011, scusate, 2011-12 che si chiama Perle e l'abbiamo creato nella nostra università la nostra università è un'università campus residenziale e con il principio, rispettando un po' il concetto di Etienne Wenger della community of practice abbiamo deciso di cercare di creare una piattaforma open source dinamica disponibile per tutto il popolo delle nostre università abbiamo circa 5.000 iscritti quotidianamente come non c'è una pandemia, 17, 16, 17.000 persone presenti sul campus quindi l'idea di una comunità se questa è l'icona originale della piattaforma potete vedere al centro i miei corsi quello era il punto di accesso al dashboard dei corsi in Moodle per gli studenti devo dire che all'inizio l'uso di Moodle era piuttosto limitato e i docenti colleghi, anche noi stessi avevamo la tendenza di usare questo strumento come una forma di baccheca utile, elettronica e nei primi tempi veniva meramente utilizzato per le cose che vedete archiviare e rendere disponibili contenuti e materiali dei corsi un forte beneficio dal mio punto di vista era che era possibile mettere a disposizione degli studenti delle dispense invece di mandarle a pagare in copia di storia e quindi era possibile creare i materiali e renderli disponibili per gli studenti e poi serviva come non c'è sport per avvisi e notizie varie piano piano abbiamo cominciato a sperimentare un po' a creare percorsi un po' più strutturati utilizzando il Moodle abbiamo iniziato con piccole cose come per esempio vedere in mezzo la creazione di un ebook per la grammatica in lingua inglese noi siamo nella Calabria ci sono le comunità albanesi cioè albanesi e quindi è una materia di una certa importanza nella nostra sede abbiamo risposto alla necessità di un disagio espresso da parte degli studenti delle corse di laurea magistrale in lingue e lettere moderne che dicevano che non riuscivano ad affrontare bene il compito o la parte del compito scritto che riguardava summary writing quindi abbiamo creato questo piccolo corso per dargli un sostegno l'elemento più importante dal mio punto di vista qui dal nostro punto di vista era un progetto che abbiamo chiamato perle di creatività che era un progetto lanciato con i studenti molto numerosi del corso triennale in centro dell'educazione questi ragazzi frequentavano un corso un computer workshop e noi abbiamo chiesto a loro di fare un percorso di seguire un percorso in Moodle scandito attraverso cinque settimane per un digital storytelling project posso far vedere un screenshot della seconda settimana gli obiettivi qui erano di stimolare lo sviluppo di digital skill di chiedere agli studenti di creare un video e di creare un storyboard per la storia raccontata nel video e per il format di formato per presentazione di questi elementi abbiamo un po' utilizzato il modello tipico di format di un MOOC come tipicamente si trova i grossi providers sono ben conosciuti come Coursera abbiamo studiato e frequentato tutti questi corsi un po' per prendere l'idea e l'idea di un primo impatto first impact quando lo studente vede la cosa davanti a sé è molto importante che sia esteticamente piacevole come in un buon website che sia ben chiaro che cosa deve fare o può fare che il percorso se si tratta di un percorso di natura didattica da seguire con delle attività da svolgere deve essere comunicato molto bene e questo progetto ha riscosso un grande successo i questionari che abbiamo poi sottoposto ai ragazzi hanno prodotto documenti molto interessanti è stato molto apprezzato un percorso percorso strutturato spiegato bene con supporto all'interno gli studenti risultavano essere sì, nativi digitali ma solo ad un livello di una certa superficialità la capacità di fare un uso creativo di strumenti digitali non c'era ancora però c'era l'interesse di acquisirla poi è stato molto apprezzato l'idea cioè la cosa che abbiamo fatto era di fornire supporto tutoriale e da parte dei docenti costante in risposta a qualsiasi problema per dir sì mandarle in una specie di flip situation ma non erano senza un accordo di contatto con noi costante questo è molto molto importante poi abbiamo anche con questa esperienza sperimentato con forme di valutazione sia personale e self-evaluation che fra pari di peer evaluation che non è stato apprezzato come iniziativa tanto credo per una cultura di sfiducia negli studenti che vogliono sentire il docente come se fosse la ponte di ogni sapere dove un po' slowly but surely incoraggiarli a occuparsi o farsi coinvolgere in questo tipo di valutazione che è molto importante passiamo all'uso attuale più attuale di Moodle da parte mia in un corso di laurea magistrale in gestione e conservazione dei documenti digitali che è il primo e credo ancora l'unico corso di questo genere in Italia è un percorso molto esigente a livello di materie informatiche e tecniche in quegli studenti e c'è la lingua inglese sia al primo anno che al secondo la lingua inglese è da concepire come veicolare per i futuri professionisti in questo settore che lavorano in Italia sia nel settore pubblico che nel settore privato Nel Moodle ho adottato per questo percorso il format multitopic e attualmente per future edizioni stiamo per l'esperimento con TILES sempre alla ricerca di un first impact convincente per gli studenti gli studenti che hanno fatto il primo anno l'anno scorso faranno il secondo con TILES e mi diranno che cosa pensano del confronto e poi agisco di conseguenza abbiamo tre principali scusate sezioni qui c'è il course introduction and support che offre tutte le informazioni che riguardano la gestione del corso ai fini istituzionali in che cosa consistono gli eventuali esami e ci sono elementi come per esempio il forum e modalità di contatto con il docente responsabile per il corso poi ci sono i quattro moduli tematici del corso e in termini di tematico significa qui cose scelte che possono riguardare elementi pertenenti per gli studenti che si stanno preparando per questo mestiere e là c'è il forte elemento di ESP sto cercando di rispondere ai bisogni specifici c'è una forma di negoziato costante io non intraprendo attività su un tema specifico se non ho la forte percezione che gli studenti approfondono questo perché va a motivazione questo sono motivati se fanno una cosa che sono inutili contanto per quindi gli elementi all'interno dei quattro moduli sono stati scelti da me proposti dagli studenti approvati maggiormente qualcosa no quindi è stato eliminato e si prosegue così e di anno in anno si fanno delle piccole indagini per vedere come hanno risposto in modo di poter migliorare per l'anno successivo poi c'è una zona che ritengo molto importante perché questo corso di l'area è un corso di l'area che permette agli studenti di frequentare l'università oppure no se sono persone che lavorano o se sono persone che vivono al di fuori dalla regione Calamari durante la pandemia non c'era più pleno perché la donna da parte della nostra università di Teams permetteva a me di portare tutti questi contenuti in Teams e di fare l'azione con le difficoltà che poi si conoscono e posso raccontare per il caso specifico però mi sono perso il filo un attimino la questione è che è un obbligo per me avere a disposizione un percorso per corsi in modo che posso sfruttare in soluzioni blended oggi in aula Olivetti hanno parlato in modo molto acceso perché è una cosa che succede molto interessante della questione delle lezioni ibride e c'è pure questa possibilità e c'è la possibilità che ci siano studenti che non frequentano nessun tipo di lezione però c'è l'esigenza di fornirgli una cosa che possono studiare in autonomia e quella è una bella sfida una cosa che si può rispondere con elementi che vedete che vi glossariens English Learning Resources Document Management Resources e ho creato in un'imposita zona per lettura un certo mea reading area andiamo per l'erli un po' nei continuiti un po' più specifici questi sono i moduli allo stato attuale con i topics o zone di interesse all'interno quindi ogni studente che entra in un particolare modulo sa di che morte va a morire perché è proprio elencato là e sono cose che ritengo siano pertinenti per document managers e cerchiamo di avere una cosa che è rassicurante devono sapere che sono seguiti c'è qualcuno sta interessandosi ai loro interessi qui c'è un esempio di una parte del secondo modulo la seconda parte del primo modulo che riguarda personal brand e là sono interessato al modo in cui le persone si imparano a rappresentarsi nel mondo presentarsi sul mercato di support e quindi gli faccio fare o mi chiedo di fare un percorso in personal brand che significa fare SWOT analysis significa distinguere tra un CV e un resume e qui sempre tenendo conto delle persone che possono non avere contatto diretto con me in aula oppure ogni act online le istruzioni devono essere semplici e facili gli obiettivi delle attività devono essere chiarissimi e scritti bene poi c'è un graduale input che è una cosa che abbiamo imparato dall'esperienza totalmente online ci sono molte cose che sono principi solidi di una communicative english teaching classroom che hanno trovato ulteriore prova di giustezza nell'esperienza online ci sono stati seri problemi di comunicare seri pisanci che riflettano e si riversano su tipo tipi simili di pisanci che si provano in aula normalmente se esiste più normalmente alcuni esempi delle cose che ho incluso english learning resources dalla rete corsi che sono disponibili per open source free per i nostri studenti molti non sono non hanno una grande conoscenza del mondo molto ricco dei MOOC che a volte sono completamente gratis a volte sono a pagamento o a gratis il pagamento per il certificato quindi queste cose le spieghiamo agli studenti software applicazione che riteniamo utili per chi sta studiando l'inglese e vuole usufruire di queste cose di ausilio come per esempio Duolingo che ritengo molto utile risorse per la grammatica dizionari elementi per traduzione software di nuovo e poi practice esercitazione interattiva siti web che guardiamo vediamo se sono buoni se non ci sono troppi pop-up se sono accurati ben fatti e li mettiamo a disposizione dagli studenti glossari il Moodle risponde molto bene al desiderio di mettere a disposizione glossari sia di natura generica con la funzione global per tutto il sistema dei corsi che hai oppure specifico come per esempio all'interno di questo corso per document management quindi in questo corso è incluso un glossario language and topic uno specifico per document management e uno per i vocaboli all'interno dei materiali del corso questi sono alcuni esempi di una cosa che abbiamo trovato molto bella e molto utile che è l'autolinking dove con il corso ci sono delle parole che possono essere evidenziate il studente trova una spiegazione veloce clicca ok e prosegue con il suo lavoro invece di correre cercando altre soluzioni per te questa è una cosa molto carina che abbiamo trovato in Moodle questo è un esempio della pagina o due delle pagine di document management mi riservo di lasciare queste risorse sia a disposizione dagli studenti quando stanno lavorando in autonomia oppure quando non possono frequentare in nessun modo le lezioni però mi riservo anche di andare a pesca se trovo delle cose che possono essere utili in aula sempre scavenging se trovo qualcosa perché il corso come è improntato all'interno del Moodle è da considerarsi una spina dorsale ogni tanto aggiungo anzi molto spesso aggiungo delle cose perché il corso è una cosa che prosegue si sviluppa manifesto problemi alle quali bisogna rispondere e quindi si aggiusta permanentemente questa è la reading area dove metto a disposizione testi e poi c'è tutta una serie di cose online ho aperto la pagina testi per questo screenshot e questa è una cosa che si arricchisce sempre e di nuovo ogni tanto vado a pesca e uso queste cose in aula ho messo alla fine delle considerazioni un po' puntate così per questioni che possono andare a stimolare risposte agli studenti in quello che chiamo un approccio holistico dobbiamo seguirli su tutti i fronti e quindi alcune di queste sono le cose che mi dico dico a me stesso quando sto cercando di preparare piccoli pezzi per creare questi percorsi all'interno del moodle TTT è il teacher talking time che tutti gli studenti di lingua sanno bene è una cosa che va più in l'auto quindi riduco il risultato grazie sono 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 domande ho un po' di vecchio se ho bisogno ho fatto molto interessante questo nuovo posto prendo sia almeno finora non ho mai esistito se mi risulta che non ci sono delle qualifiche per questo tipo di figura lavorativa c'è una ente che si chiama concepts che vende che certifica però nell'industria fino ai tempi più recenti non c'è modo di andare all'università di qualificarsi come document manager e iniziativa del nostro commissario di vorace sì 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 ricordo la tua sì sì no laura è ma è da sei anni da due minuti da una po' di una po' di quale classe di laurea di anni di siano grazie mille allora un contributo la presentazione di un contributo anche per voi ci sono 20 minuti se volete già prepararli il titolo del contributo è il rapporto di chirurgia prego la ringrazio parlerò io a nome del team di lavoro che rappresento siamo ovviamente persone che abbiamo lavorato in questi anni asciuti dalla formazione primaria dell'università di Ludo di qualità di supervisore di tirocinio abbiamo già avuto il piacere di essere accolti a due minuti di l'anno scorso e quest'anno arriviamo con un nuovo piccolo contributo che ci fa piacere condividere insieme a tutti voi una piccola premessa prima di illustrare lo studio è quello che è necessario dire che noi abbiamo vissuto la prima corte di studenti che noi abbiamo seguito dall'inizio alla fine del percorso quinquennale è una corte di studenti che ha vissuto una trasformazione con una riprogettazione nel percorso di tirocinio con la quale anche è iniziato l'uso sincronico della piattaforma quindi adesso arrivati a talmente di questi due impegni ci sembrava carino anche fare un bilancio di questo specifico bilancio che si è riferito all'incontro Tirocinio, tanto per chiarire lessicamente, si divide duale abbiamo il tirocinio indiretto che noi curiamo a prossimo settore dell'università e con degli incontri che si intercalano con invece l'infettivo tirocinio indiretto che le studenti e le studentesse vanno a fare nelle classi tattiche a partire dal secondo anno di corso, quello che istituzionalmente è previsto per legge in serie di inizio del tirocinio, noi abbiamo tuttato il porto oltre come potete vedere appunto nel box a messa Abbiamo utilizzato anche la piattaforma Moodle con le formule e anche quelle presentate da un collega che ci ha facciuto Ogni annualità è divisa poi in argomenti per le singole giornate d'incontro e abbiamo anche prescosto appunto per Ogni annualità ogni confoglio chiedendo agli studenti che venisse realizzato e popolato però con tre cartelle è una dedicata all'insegnamento, uno laboratorio e una tirocinio poiché questi sono i treni più fondanti su cui si costituisce il corso di la RAGIT con le primarie non volevamo che il portfoglio fosse ancorato ad una visione esclusivamente connessa a tirocinio ma inventasse invece una modalità di trasversalità e per l'appunto condivisione Ogni studente chiaramente poi era tenuto a produrre tutta una serie di prodotti che venivano a costituire poi la sua parte di portfoglio del chirocinio come siete qua in esemplificazione e che prevedevano un articolo ad alta modalità molto di contributi che adesso vedete ma quello che qui ci preme condividere con voi è che per noi il portfoglio dopo una brutta ricerca nell'ambito proprio della literazione di scuola e delle esperienze prodotte anche direttamente noi ha avuto tre finalità primarie che abbiamo condiviso e anche in parte con questo video con gli studenti che sono stati quelli di assumere e autoggiere una funzione orientativa nella fase iniziale ma anche nel filere in un portfoglio dove grazie a voi gli studenti potessero capire se erano né il professor giusto né l'ascinamento della scienza dell'intervista e se erano quelli della literazione di scuola una seconda valenza di carattere ovviamente valutativo e certificativo perché chiaramente nel portfoglio arriva poi ad una valutazione finale è una valutazione che ha un'attrovazione e anche un'attribuzione di proteggio che in un atto nelle quattro umanità viene presentato con i poteri dell'intesi di laurea per la produzione dell'università ed infine l'ultimo manovra, l'ultimo, l'aspetto estremamente sformativo che è quello per noi preciso perché ci interessava appunto che ci fosse un uso dello spazio strumento portfoglio soprattutto l'evoluzione di messaggi ovvero che accompagnasse il trancorso primitivo degli studenti ma anche possibilità di auto-osservazione, auto-valutazione e auto-rigenerazione proattivo rispetto alla dimensione formativa come vedete adesso i contenuti proprio del portfoglio sono diversissimi dai lavori dalla parte più strettamente istituzionale ma anche dei lavori esercitativi, laboratoriali che venivano prodotti in università anche prodotti individuali, condotti con modalità multimediali e utilizzando tantissime applicazioni software perché venivano nel corso delle annualità per posti, sperimentati dagli studenti e alla research, soprattutto in un altro ebook e tante altre molestità quindi andiamo a vedere però l'idea Nell'ambito del nostro studio ovviamente ci siamo adeggiati a una cornice estremologica di riferimento per andare appunto a rilagare quella che ha la finalità che quest'anno ha condotto il nostro lavoro e a quella che vittuò appunto il bilancio riferimento ai portfogli e ai portfogli e rispetto a questo ci siamo posti tre domande di ricerca ossia uno ha dato più gli aspetti quantitativi le modalità dei scopi di usi del portfoglio una seconda domanda invece che affrontava gli aspetti più specificatamente quantitativi ed infine volevamo riconoscere quello che era da due studenti utilizzatori in premessa su conti di forza e di pubblicità ne utilizzano tutti questi studi da un punto di vista di mezzo il nostro studio di effettivo e superattivo avuto come target agli studenti nell'ultimo anno del concorso di penale della laurea magistrale una formulazione di ricerca di autosustretti di cui il campione effettivo è stato costituito da 112 che hanno aderito allo studio con un lato, un questionario a domande molto chiuse e aperte che noi abbiamo propostamente in temporanza e che abbiamo utilizzato in presenza ma utilizzando comunque il form online da un punto di vista di mezzo di un punto di vista quantitativo e quantitativo vediamo i risultati con l'attività ovviamente abbiamo straordinato i dati di questo cittadino dal punto di vista quantitativo abbiamo visto che gli studenti hanno un buon ottenimento non ancora l'ottimo ma sostanzialmente diciamo globalmente questo tipo rispetto a cui la nostra azione è stata quella di incertivare un punto ancora più regolare nell'ambito dell'umanità e dell'esistraumanità perché è un po' soprattutto nell'alcune periodismo andando a vedere l'utilizzo nelle quattro humanità gli studenti e le studentesse hanno dichiarato qui si vede che gli altri mi riferito a poco sono ampiamente decresciuti come sono aumentati invece progressivamente quelli riferiti a un punto incisivo è chiaro che i valori si stanziano soprattutto sull'interno abbastanza molto e ha interessato in particolar modo per l'anno per questo momento la pandemia in cui si è stato sicuramente un incertivare rispetto alle modalità abbiamo fatto la commissione da uno per il cittadino interessante per il fatto che la maggior parte ha fatto un uso autonomo ma che ai nuovi esistono il nostro 10% e quindi lo utilizza perché il loro esistra città e questo è già stupito perché se non è in una popolazione accademica magari anche prossima a riuscire a formazione di percorsi per non più di un utilizzo autodiretto o di un interodiretto rispetto alle finalità i nostri studenti ce l'avete detto il primo è riferito al qualità di un materiale che succederà che funge sicuramente dal catalizzatore delle questioni dell'istituto ma però il mio avviso primo è di concezione con città attenzione sono quelli riferiti alla possibilità che da loro hanno presentato di essere una fonti di consultazione e un solito con il livello storico che io ho preso quindi loro stessi hanno scazzato una piastata di controllo che si può liberare assolutamente valenza in formazione e le dimensioni di domenica rispetto a dati più strettamente qualitativi che costituivano il nostro secondo obiettivo i nostri studenti hanno sicuramente confermato quello che è una nostra idea in gelbo ma in sigla abbastanza supportato ovvero che loro si sentono più forti perché questo processo è una forte maturazione delle competenze digitali e in successione di quelle organizzative con le documentative documentative però insessuali ma per documentazione si intende nell'erizzonte e appena agosto stesso quesito questo corso attraverso le competenze di Permo che saranno riferimento autorale che ha lavorato molto con il struttore sulla formazione iniziale di Messinaia che ha mandato il cuore questo decalogo quindi chiedendo ai studenti quali sono le competenze che avete maturato utilizzando il decalogo di Permo sicuramente confermo che la risposta precedente il primo agosto sono le competenze digitali quindi da essere sulle nuove tecnologie ma anche in questo caso i studenti hanno detto che il controllo è servito per gestire la conversione degli incontinenti e la propria formazione in continuità con questo noi abbiamo chiesto ma ora che noi fisicamente e cronologicamente si tratta al numero del pacos pensate di poter mutuare con il portfoglio nella professionalità docente le risposte sono state tutte così e questo ci comporta per il fatto che ci sia molta asseribilità ma nello stesso cliente abbiamo letto con una certa non dico preoccupazione c'è interrogato un dato che non sia poco intuabile di questi cimili che invece è stato finito in questo punto e infine punti di forza punti di felicità e qui nel genere ha in forza dentro la sinistra quelli che sono più diridenti ci interessava a ricordare le categorie che si rivegono che sono quelle legate più ad aspetti operativi della tecnica rispetto a che abbiamo già incontellato i riprendimenti di Ateneo che agiscono su cui l'ambiamento della dimensione di mania precaria del posto del mino ecc. Mentre invece sui altri tipi motivi soprattutto che riguarda la difficoltà ovvero partire con il foglio che era chiuso perché inizialmente avevamo studiato l'interfaccia tra parte individuale e interfaccia tra studenti e quindi evidentemente loro hanno capito che questo era vantaggio e quindi adesso chiedono un allargamento che non applica la comunità di fare e un altro elemento è si deve essere rossi e non diffuso nell'ambito del discorso e di correla rispetto rispetto alla parte più quantitativa sicuramente il lato di implementare e ragionare insieme gli studenti sulla modalità più matura regolare e molto direttamente in merito rispetto ai contattivi siamo confrontati per fatti come avevano letto i portfogli con una dimensione informativa e autentica professionalizzante sicuramente c'è da fare ancora molto nella triangulazione dei sapere delle pratiche all'interno del corso di studio e anche sulla trassuribilità e infine su quanto riguarda il lavoro sulla politicità come già anticipato prima insiste per inserire chi non deve trasversare il portfoglio anche con i docenti cercando di creare studenti docenti tutti gli agenti che operano azione ancora per studenti che vanno a fare i progettazione che riguardano gli aspetti del sesso siamo consapevoli che questo studio ha i suoi limiti a partire dal campione ma certi del fatto che gli esiti non sono generalizzati cittadini sono in direzione operativa forse poi utilizzare città migliorare l'immagine immaginità quindi abbiamo ingaggiato tutti però ci producono tutti in questa direzione maggiore transversalità interna maggiore forme di cooperazione collaborazione con i studenti perché noi fino adesso abbiamo tantissimo però non l'esercizio è quello di creare un progetto ma in sé e facilitare come diceva prima collega una valutazione che avrà dotato sugli esseri che diventi anche valutazione tra parte perché questo è molto molto la famosa ma perché poco in nostro caso a maggior ragione dovrà andare a lavorare più tutti i test e quindi a loro volta dovranno essere capaci di distribuire queste pratiche nuove pratiche che sono tali abituzionali che adesso stiamo a tutto stiamo un Grazie a tutti. Andavano a caricare i loro task, ma che potevano essere dei semplici pezzi di scrittura, potete scrivere moltissimo, ok, ma non so come quella del registro di scrittura, ma di scrittura, ma potevano essere anche artefatti molto diversificati che andavano ad essere supportati da delle applicazioni e creavano alla fine, appunto, questo lavoranti di tasse che noi andavamo a condividere con loro già in campo in Italia, perché dovevano essere pesanti per tutti e potevano essere tipo sia individuali che di confrontare, quindi potevano essere anche sviluppati all'interno della sede universitaria, e che poi diventavano anche, e non solo i termini, ma anche i documenti, poi, per esempio, come quello che lo sai, come abbiamo altamente utilizzato, le spedizioni di tutti come lavoro proprio di cui vuoi, la seconda domanda era quella di carattere didattico, assolutamente, con un ruolo sul quale, vado scientificamente perché il tempo è poco, perché ci sono stati diversi negli anni, c'era il livello del loro rapporto, poi c'era il nuovo rapporto preferito a noi, e avevamo tantissime, la verità di silver diretto, molto online durante il tempo della pandemia, con lunghissime ore di consulenza, proprio per fare delle restituzioni a loro persone di silverware, che poi sono quelli più impegnanti, perché in caso nostro, essendo per tutti i decenni, lavoravamo molto sulle situazioni, quindi, anche da quei concorsi di 50, 60, 100 pagine, che non potrebbero, magari sfidare, semplicemente, a creare delle dotazioni tecnologiche, come inizialmente, che mi portano in un'unità della parola, per vedere che abbiamo, non solo, i processi in Italia che invatti nel conto, ma anche i processi in Italia che andiamo a lavorare nella oma sezione, e nella altra orientazione dell'automobile, per vedere anche se ci sono un decreto, che avrebberobeati di tutti i dati di loro, per i corso. Quindi il portfoglio è stato fondamentale per avere, ad esempio, una diversa orientazione, che è appunto, non diventasse, una minoria, o spagnola del fatto, diventasse, una minoria operativa, una minoria operativa, per avere una minoria informativa per avere una minoria, Grazie. Questa è sicuramente una traccia molto interessante. Chiaramente noi lavoriamo, atteniamo al VIL, atteniamo alla biblioteca e quindi noi abbiamo, come dire, fatto questo tipo di osservazione interna. Sarebbe interessantissimo adesso promuovere questo confronto a che aspetto, per esempio, a un uso del portfoglio nella vita di sé e tra l'altro, e qui vedremo un'altra grandissima tema di discussione che già è l'azzo prima, quello che riguarda gli stessi valutativi, perché è un altro macro diverso, perché prima di parlare di valutazione di portfogli, è un po' sentito sulla valutazione e sulle modalità formativa, scrittiva, eccetera, che anche lì bisogna per coniugare i mondi umanistici e cosiddetti sistema. Grazie. 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 Allora, questo invece è già previsto come elemento da farsi nell'esterno successivo, ma prima di arrivare, per esempio, forse si può essere proprio identico, l'idea però quella di lavorare è tutta una possibilità veramente di intrecciare, intersecare, creare delle azioni co-costruite con i docenti, affinché veramente questi opriami siano più dialoganti, anche effettivamente in questo tema. Grazie. Grazie. Grazie anche a tutti i presenti. Un commento lampo, che mi aveva detto prima, che era quello che per rapire, non ho detto. Tante volte non ho dimenticato i miei studenti per incentivarlo, ho riconosciuto loro qualcosa, che è funzionato per aumentare, diciamo, i loro coinvolgimenti. Comunque, a parte questa, io ringrazio intanto tutti i regatori per aver spettato i tempi e tutti i partecipanti per aver guardato. Quindi oggi è finita, diciamo, un long day, ma è stato interessante. In quest'Aula c'è un'assemblea che è solo CI1. Altrimenti che non è più il nostro, troviamo presto e poi ci vediamo a presto. Grazie. 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 Grazie.